Buonasera da FamilyTG, approfondimento a cura di Federanziani. Il decreto Balduzzi sulle staminali è diventato legge. Il decreto sulle staminali proposto dal ministro della salute oscente Renato Balduzzi è diventato legge. Alvia quindi le sperimentazioni del metodo staminale per 18 mesi in strutture pubbliche controllate e sotto l'occhio attento dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'AIFA. È un discorso estremamente complesso e delicato perché cellule staminali fanno parte di uno di quei percorsi di forte cambiamento. Forte cambiamento perché rappresentano o potrebbero o potranno rappresentare una svolta di grande importanza. Allora io credo che sia un percorso che vada comunque perseguito, comunque portato avanti, è evidente che bisogna fare in modo che le leggi individuano dei percorsi chiari, cioè che consentano lo sviluppo, che consentano la ricerca, quindi portare avanti una legge che consenta lo sviluppo nel rispetto del paziente, dei diritti del paziente, nel rispetto delle possibilità del ricercatore di svolgere il ruolo che deve svolgere, se no non arriverà al risultato, quindi con una serie di accorgimenti che credo siano necessari e indispensabili. Allarme nuove iscrizioni per le scuole dell'infanzia. Per le scuole dell'infanzia è emergenza in tutta Italia per via delle richieste di iscrizione in vista di settembre. Le domande sono in netto aumento rispetto agli anni scorsi ma la capacità di asili nido e materne di ospitare i bambini è al minimo storico. In tutto il paese la morsa tra i comuni dissestati e la crescita delle richieste per le materne sta disgregando centinaia di istituti. L'interculturalità globale è sempre più presente in Italia con i figli degli immigrati e degli stranieri che presentano domanda insieme a quel ceto medio che non ha più i soldi per mandarli alla scuola privata. Per capire meglio la situazione basta riprendere una vecchia indagine Istat di qualche anno fa e confrontarla con quella attuale. Fu messo in risalto che nella fascia di bambini di 1-2 anni più del 50% venivano affidati ai nonni, l'8,8% ad una babysitter e solo il 16% frequentava l'asilo. Cosa è cambiato quindi? Forse nulla, sicuramente è un problema che deve essere affrontato al più presto per garantire un rapporto sano e sicuro tra la famiglia e le scuole dell'infanzia. Il 12% degli adolescenti è a rischio di disturbi alimentari legati all'uso di droga. I dati dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Aumentano i disturbi alimentari nei giovani e cresce il numero di maschi che fanno i conti con la bilancia. L'offerma l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha esaminato un campione di 45.000 studenti di 516 istituti su tutto il territorio nazionale. Il rapporto dei ragazzi con il cibo è diventato negli ultimi anni molto complesso. Spesso i disturbi alimentari sono correlati all'uso di sostanze stupefacenti, tabacco, alcol, psicofarmaci, doping e altre sostanze psicotrope illecite, con una differenza di genere. Nei maschi è stata rilevata un'associazione tra l'essere sovrappeso e l'uso di sostanze stupefacenti, mentre nelle ragazze sono le più magre ad essere dedicate alle droghe. Gli studenti con un profilo di rischio sono l'11,7% secondo i dati raccolti. Il fenomeno è insensibile e graduale aumento. Dal 10,3% del 2009 si passa all'11,2% del 2010 e all'11,4% del 2011. La chirurgia microinvasiva. Ne abbiamo parlato con il professor Giuseppe Pozzi, presidente della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. La chirurgia microinvasiva oggi è una tecnica chirurgica che può essere applicata fondamentalmente alla cura di numerosissime patologie. Si tratta non solo di una tecnica chirurgica, ma si tratta anche di una chirurgia di rispetto che dovrebbe essere applicata a tutti e a maggior ragione nelle persone più fragili. Ad esempio nell'ambito della chirurgia addominale è molto diverso prendere un bisturi e avere un accesso con le mani e con lo sguardo all'interno di un addomino di una persona per curarlo, quando dall'altra parte è possibile inserire una piccola telecamera grande come una penna BIC e vedere le immagini all'interno proiettate su un monitor e gli strumenti passare attraverso dei piccoli buchini che possono essere o di 5 o di 10 mm. Si chiama chirurgia di rispetto, dovrebbe essere applicata a larga scala, a volte non lo è, di questo ci dispiaciamo e uno degli obiettivi della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute è quello di stimolarne una diffusione. I videogiochi per rafforzare il processo cognitivo delle persone anziane. I videogiochi ritardano l'invecchiamento della mente. Lo dimostra un nuovo studio dell'Università dell'Iowa che ha rilevato che gli anziani che in una giornata giocano per 10 ore ad un videogame incrementano la velocità dei processi di elaborazione mentale e rallentano il declino cognitivo e le conseguenze negative sulla memoria, l'attenzione, la percezione e la soluzione dei problemi di almeno 3 anni. Lo studio ha testato e monitorato le capacità cognitive di un gruppo di 681 adulti sani dai 50 anni in su sottoposti all'allenamento al videogame Road Tour che prevede l'identificazione rapida ed istantanea di un veicolo in corsa. Il gioco permette di migliorare le funzionalità cognitive della mente velocizzandole e affinandole. I risultati della ricerca pubblicata sulla rivista Plus One hanno rivelato che gli over 50 che hanno giocato almeno per 10 ore hanno guadagnato 3 anni di miglioramento cognitivo dopo un anno dal test. Un gruppo che si è sottoposto a 4 ore aggiuntive di allenamento ha guadagnato invece 4 anni in più. Il game over, per fortuna, pare lontano. Questa era l'ultima notizia. Buona serata, a domani.